Alle mie spalle state guardando il nuovo ospedale di Monopoli, l'ospedale pugliese che è stato costruito e mi auguro reso operativo nel tempo più breve della storia della Puglia. Questo è il primo dei nuovi ospedali che abbiamo progettato e che stiamo realizzando in Puglia, nel Sud Salento, ad Andria, nel Nord Barese, a Taranto. Taranto va avanti ad una velocità straordinaria, sono ospedali bellissimi inseriti nel patrimonio paesaggistico della Puglia, questa è un'area con ulivi secolari, davvero cose straordinarie che man mano crescono. Tutta questa rivoluzione sanitaria che ha portato la Puglia ad essere la regione italiana con la maggiore crescita sia nei livelli essenziali di assistenza sia nell'assistenza ospedaliera, non sto dicendo che siamo diventati più bravi d'Italia, sto dicendo che siamo quelli che hanno recuperato di più nell'ultimo periodo e siamo i primi per tendenza verso il miglioramento. Questo era il massimo che potevamo aspettarci e naturalmente in una condizione molto difficile perché quest'anno c'è stato un aumento dei costi dovuto all'inflazione, all'aumento dei costi energetici, più in generale tutti i costi Covid che non ci sono stati rimborsati dallo Stato per 710 milioni e lo Stato ci ha dato solo 430 milioni per compensare questo aumento di costi. La Puglia cresce, cresce anche nel settore sanitario, eravamo gli ultimi in Italia, speriamo nel più breve tempo possibile di diventare non solo la prima regione del sud ma una delle prime regioni italiane. Non sarà facile, bisogna avere una grande determinazione e soprattutto una grande serenità anche per costruire col governo quel rapporto positivo che è indispensabile. La sanità non è una materia di esclusiva competenza delle regioni e per esempio per questo ospedale e per gli altri ci deve assegnare fondi, qui ci deve assegnare altri 80 milioni di euro per completare l'armamento dell'ospedale. Speriamo che questo avvenga in fretta, stiamo buttando il cuore oltre l'ostacolo ma sono certo che il governo farà il suo dovere verso la Puglia. Grazie. Grazie. Grazie.